Benvenuti all'ottavo episodio di Connessioni Cinemaniache, il video dove in meno di un minuto partendo da un film, una serie tv, vi do tre suggerimenti basandomi su regia, attori e genere. Cominciamo. Se come me recentemente avete deciso di guardare Spider-Man Into the Spider-Verse, in attesa che esca Across the Spider-Verse a giugno, sicuramente di Phil Lord, che ha scritto la trama, vi consiglio DeLego Movie. Non fate facce strane, DeLego Movie è un bel film. Poi, tra gli attori ho scelto Jake Johnson, perché dovete, se non l'avete visto, guardare anche qui assolutamente New Girl, perché Jessica Day, Nick Miller e Schmidt fanno un trio incredibile in quella serie, sono tre protagonisti meravigliosi e si mantengono alti per tutte e sette le stagioni. Invece per quanto riguarda il genere di animazione di questo tipo, mi sento di consigliarvi Arcane, che è la serie su Netflix basata su League of Legends. Non vi preoccupate, non dovete superare niente di League of Legends perché è un prequel e quindi nel caso vi spiegano tutto. Ciao!